Senatore Renzi, Giorgia Meloni si trova oggi in una situazione molto simile a quella in cui lei si trovava dieci anni fa, presidente del Consiglio, ha davanti un'elezione europea in cui viene accreditata di essere la leader del primo partito, anche se le proporzioni sono un po' differenti, ha avviato un percorso di riforma costituzionale che però lei all'epoca non aveva ancora avviato, e davanti a sé e alla voce, diciamo alla vulgata, durerà vent'anni, durerà cinquant'anni a un referendum costituzionale. Analogie e differenze ne vede? Fossi in lei, nel senso di Giorgia Meloni, non in lei Tommaso Labate, farei dei gesti scaramantici, cercherei un amuleto, ma al di là delle battute, sì ci sono delle vicende simili, nel senso che effettivamente la Meloni arriva a queste elezioni molto forte, lei però vuole metterci il suo nome, noi allora facemmo un'operazione diversa, lei punta all'Italia, noi cercammo, ricorderà con quel 41% di cambiare le regole della flessibilità in Europa che ci stavano strangolando, e quindi facemmo l'accordo con Jean-Claude Juncker per avere uno spazio di manovra di 30 miliardi da cui è nato Jobs Act, Industria 4.0 eccetera. E quanto al referendum costituzionale, diciamo non so se la Meloni farà la fine di Renzi, per il momento non ha fatto neanche l'inizio di Renzi, perché questa riforma che la Casellati sta scrivendo più che una riforma è uno schifezzellum, cioè non si è capito cosa ci mette e cosa no. Però dovendo restare in punta di riflessione politica, beh lei oggi è la leader da battere, noi facciamo una cosa un po' diversa, nel senso che noi cerchiamo di parlare di Europa, con questa lista Stati Uniti d'Europa, lei è molto beghe di cortile, cerca la Schlein, insomma, vedere Meloni e Schlein che fanno il dibattito insieme da Vespa, ma tutte e due non vanno a Bruxelles, tutte e due non vanno a Strasburgo, ragazzi, soltanto in Italia, c'è l'elezione europea in 26 paesi servono per decidere chi va a Strasburgo, in un paese servono per decidere chi va in Via Teulada o comunque a Porta a Porta. Adesso ci arriviamo al duello, io le volevo chiedere, la gestazione delle liste, doveva esserne una ma adesso ci sono due, dell'area liberal riformista che nel 2022 alle politiche non stava né con gli uni né con gli altri, alla fine sembra aver prodotto sondaggi alla mano dei risultati diciamo abbastanza positivi, perché si ragionava diciamo nell'ottica in cui Stati Uniti d'Europa e azione lottassero al di sotto, un po' al di sotto della soglia al 4%, in questo momento siete abbondantemente o quasi tutte e due, almeno a vedere l'ultimo sondaggio del TG di Mentana di ieri sopra, pericolo scampato, operazione diciamo a somma positiva per tutte e due o cosa? Noi abbiamo fatto un'operazione molto bella con Emma Bonino lanciando il sogno degli Stati Uniti d'Europa, e su questo io ho ritrovato la passione, il gusto, ho ripreso il camper, mi sembra di essere ingiovanito di 10 anni, al di là che io ho qualche capello bianco e l'età che non è più quella di 12 anni fa o di 10 anni fa. Le dico quali sono le differenze? Beh, tre in sintesi. Noi presentiamo un progetto che si chiama Stati Uniti d'Europa e chi viene eletto va a Strasburgo. Calenda presenta un progetto che si chiama Calenda, questo è il nome sul suo nome, sì, azione con Calenda, noi ci chiamiamo Stati Uniti d'Europa, e se viene eletto, questa è la differenza, non va in Europa. Per me è un passaggio molto importante questo. Il secondo elemento di differenza, noi abbiamo fino all'ultimo cercato di tenere le porte aperte, del tutto legittimamente azione le ha voluto chiudere, in bocca al lupo, speriamo che sia stata una scelta buona per loro, lo vedremo il 9 giugno. Il terzo, io non capisco come si possa parlare tutti i giorni sui talk, sui social, in tv, sui giornali, di alcune battaglie come battaglie di coerenza, poi arriva la mozione di sfiducia a Michele Emiliano, che non è soltanto il governatore della regione Puglia, è il simbolo del no al TAP, è il simbolo del no ILVA, è il simbolo di una battaglia antiscientifica sulla Xilella, potrei continuare a lungo, bene, quest'uomo, noi votiamo per mandarlo a casa. E Calenda, insieme a Conte, Calenda si allea con Conte per salvarlo. L'erroa barrieri non riesco a capire. Queste sono le tre differenze fondamentali. Stare a Strasburgo, aver tenuto aperto la porta fino all'ultimo e questa vicenda di Emiliano. Dopodiché, ragazzi, ognuno vada per la sua strada. Io penso che sia una cosa molto bella cercare di parlare in positivo dei progetti per l'Europa. Se Calenda ha scelto di andare da solo, auguri e in bocca al lupo. Senta Renzi, in questa sua nuova veste di marcatore a uomo, stile gentile con Maradona. Diciamo, sta dando un pochino di tregua al marcato italiano, che è Giuseppe Conte, perché è molto concentrato sulla marcatura nei confronti o contro Ursula von der Leyen. Come vede, soprattutto alla luce di questa strana visita lampo della Presidente uscente della Commissione Europea in Italia, dove andare da Forza Italia, poi non è andata, porte aperte, porte chiuse, la sua corsa, corsa della von der Leyen, verso la riconferma, che lei ostegge e soprattutto pensa di poter dare qualche carta, distribuire qualche carta per la partita, se ce n'è una, di Mario Draghi? Allora, in ordine. Noi marchiamo a uomo a proposito del Mondiale 82 Gentile, perché Gentile fece una grande partita contro Maradona, ma poi dimentichiamo che la partita dopo non fece toccare palla a Zico. Quindi i due obiettivi sono, da un lato i moderati di Forza Italia, da un lato i riformisti del PD. Primo punto, Ursula von der Leyen. Alla Leopolda, marzo 2024, abbiamo detto, Ursula non va bene. Perché? Perché è stata timida sullo Stato di diritto, perché non è stata capace di fare le riforme istituzionali in Europa, perché non è stata capace di avere una politica diplomatica accanto ai grandi messaggi da mandare sui social, anche giusti, contro l'aggressione russa in Ucraina, non è stata capace di fare una svolta sui temi ambientali, perché il Green Deal è un errore. Ho detto questo perché gli obiettivi sono anche buoni, ma se tu, per raggiungere quegli obiettivi, distruggi le aziende italiane, ragazzi, non è una grande idea. A quel punto che cosa è successo? È successo che in Italia Forza Italia ha preso la bandiera dell'Ursula Biss e ha detto noi siamo per Ursula. Tant'è che Tajani, anche in un confronto fatto venerdì scorso a Confindustria, mi ha attaccato su questo, ha difeso Ursula von der Leyen. Poi però sono partiti sia delle polemiche interne a Forza Italia che delle tensioni nell'elettorato di Forza Italia e si capisce che chi vuole Ursula Biss è Forza Italia e Tajani, ma non vuole il cambiamento in Europa. Chi vuole il cambiamento in Europa è Stati Uniti d'Europa. E allora ieri è successo una cosa, la base è incredibile, scusi quello che è successo ieri. La Ursula von der Leyen viene in Italia, tutti dicono che sarà il grande lancio della campagna elettorale di Forza Italia e di Tajani. Ora non si fa vedere di fatto. Da Fazio, arriva a Roma, fa una foto e non la vogliono nella grande iniziativa di Forza Italia. Perché? Perché è evidente che Tajani su questa cosa si sente scricchiolare la base su cui si poggia. È la verità, la verità è che se Tajani ieri fa un intervento e neanche cita Ursula von der Leyen, questo significa che dentro Forza Italia c'è la consapevolezza che appoggiare il bis di Ursula porta via l'elettorato del mondo produttivo, degli imprenditori, del mondo del nord-est. Ecco perché Forza Italia ha fatto una indietro tutta dopo la nostra polemica. Chi vuole vedersi il confronto tra me e i Tajani vede che su questa roba Antonio si è anche un po' arrabbiato, si è un po' risentito. Ma secondo lei questo è un piccolissimo segnale di come la strada di Ursula, diciamo allargando il perimetro dall'Italia e il resto d'Europa sia più complicata di quanto non sia stata disegnata fino ad oggi e che in subordine possa aprire la strada magari a Draghi? Allora, secondo me la strada di Ursula è abbastanza in salita, non dico che è il Pordoi, ma insomma è un buon gran premio della montagna. Draghi, io su Draghi ho un sogno, l'operazione politica che abbiamo fatto nel 2021 mandando a casa Conte e portando Draghi, lei ricorderà perché in più volte si è espresso, anche nelle trasmissioni televisive, sembrava un'operazione quasi impossibile all'inizio. Più che il Pordoi. Quella sembrava, sì esatto, sembrava l'Alpe d'Ouest o i Pirenei, in campo ciclistico. L'abbiamo fatta perché? Perché con un piccolo gruppo di persone ci abbiamo creduto, abbiamo avuto coraggio, abbiamo avuto anche fortuna. Ora, può risuccedere una cosa del genere ed eventualmente sulla Commissione o meglio sul Consiglio? Difficile dirlo adesso, anche perché ad esempio Draghi ha un ottimo rapporto con Ursula von der Leyen e Ursula gli ha chiesto di fare una relazione sulla situazione economica dell'Europa. La vedo così. Se Stati Uniti d'Europa avrà almeno 5-6 parlamentari, che vuol dire più o meno il 5-6% mal contati, allora dentro di New Europe proveremo a giocare una partita. Però bisogna avere un piccolo nucleo di combattenti coraggiosi che su questi temi prova a sostituire la maggioranza Ursula con la maggioranza Mario. Usiamo le capacità divinatorie che anche i nemici e gli avversari più accaniti riconoscono a Renzi. Cambiando argomento, secondo lei da quello che vede sui giornali sul protrarsi degli inchiesti genovesi, avrà il caso Totti ricadute sul centro-destra e soprattutto Totti si dimetterà alla fine? Non so che cosa abbia in testa Giovanni Totti, lo deciderà lui. Secondo me lui ha delle pressioni di Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia fanno i garantisti con del mastro ma fanno i giustizialisti con tutti gli altri. Cioè del mastro impudato loro sono garantisti, su tutti gli altri, ricordiamoci le polemiche che fecero anche a noi ai tempi di Open, delle banche, di tutte le varie vicende, delle conferenze, ma tutte le cose sulle quali ci hanno massacrato. Quindi Totti è sotto pressione. Uno, ovviamente dal punto di vista personale, immagino perché è una situazione di privazione della libertà che oggettivamente fa male. Due, perché secondo me ha Fratelli d'Italia sopra che cercano di prendersi quel posto, non so cosa faranno, noi siamo garantisti con tutti. Cioè io vedo la destra garantista con Totti e giustizialista con Ilaria Salis. La sinistra garantista con Ilaria Salis e giustizialista con Totti. Noi siamo gli unici garantisti con tutti. Garantisti in senso stretto, al di là della convinzione, diciamo costituzione e codice penale alla mano che diciamo ciascuno innocente fino a che tre gradi di giudizio non stabiliscono il contrario. Dal punto di vista della ricaduta politica, questo vorrebbe dire che secondo lei Totti non si dovrebbe dimettere? No, no, questo deve decidere lui. Totti è stato uno di quelli che ha approfittato di uno scandalo giustizialista per diventare Presidente della Regione. Perché se non ci fosse stato lo scandalo contro Lella Paita e l'aggressione contro Lella Paita fatta da cofferati e da quelli di sinistra, oggi Giovanni Totti sarebbe il direttore di studio aperto. È chiaro? Cioè questo deve essere molto chiaro. Lella Paita è stata massacrata dalla sinistra giustizialista che ha aperto le porte a Totti e Totti ne ha approfittato. Noi non facciamo a Totti quello che Totti ha fatto a Paita. Noi siamo molto garantisti, molto rispettosi. Decida lui. Se poi lei vuole una profezia divinatoria di quelle che non mi riescono perché non sono il mago Thelma, le dico che secondo me è più facile che ceda. Ma a Fratelli d'Italia, non alle polemiche della sinistra. In questo infatti è singolare che Giorgia Meloni non abbia ancora fino adesso detto una parola che sembrerebbe tutto questo andare nella direzione che lei sta dicendo. Ma dai, la Meloni la conosciamo, ragazzi, quelli di Fratelli d'Italia li conosciamo, lei li conosce bene, poi giustamente adesso fa quello che giustamente deve fare l'intervistatore e quindi non può fare il commentatore. Ma se lei dovesse scrivere un pezzo scriverebbe evidentemente che c'è un atteggiamento, diciamo, di due pesi e due misure. E i Fratelli d'Italia sono così. Se c'è una roba su Del Mastro, garanzie costituzionali. È imputato e noi non diciamo niente. C'è una roba su uno degli altri, magari si libera una poltrona, anche perché sono un po' ingordi, questi ragazzi. Cioè, quando vedono mezza poltrona di presidente della regione liberarsi, ci si tuffano. Avete visto che il capolavoro hanno combinato in Sardegna? Le dico però, senatore Renzi, che dicevano, a proposito dell'ingordigia, non alimentare, ma, diciamo, di occupazione di posti, dicevano la stessa cosa di lei quando era a Palazzo Chici. Noi dicevano del PD, perché il Partito Democratico allora aveva 17 presidenti di regione su 20, aveva la vocazione maggioritaria ed era sostanzialmente da solo, con l'aiuto importante del partito di Angelino Alfano, ma sostanzialmente nello schema di gioco delle amministrative noi andavamo praticamente quasi sempre da soli. Non eravamo in una coalizione partendo dal 25%. Noi eravamo, lo ricordo perché almeno rinfreschiamo la memoria. Era un secolo fa. E io, voglio dire, noi avevamo 6.000 comuni su 8.000, 17 regioni su 20, avevamo la maggioranza assoluta alla Camera, per cui, cioè, mi fa ridere quelli che dicono, ecco, Renzi, una stagione brutta, beh, la stagione in cui comunque il PD governava il paese, si vinceva, ora vincono le primarie ed è il grande tema per cui Elish Line si può permettere di fare un referendum contro le riforme del PD, cioè, quelli che hanno votato il Jobs Act, cioè, quelli che hanno votato il Jobs Act sono gli stessi che oggi organizzano il referendum contro il Jobs Act. Anche se non tutti, anche se non tutti quelli che pur avendolo votato lo hanno avversato all'interno del PD sono favorevoli alla scelta del referendum, ma questo, questo è un altro capitolo. brava Marianna Madia a metterci la faccia, tra i pochissimi, gli altri stanno tutti coperti perché sanno che la segretaria comunque, secondo me, riuscirà a sfangare la prova delle europee e a quel punto sarà lei a dare le carte per il prossimo Parlamento. Mettiamola così, più che l'onorpo del digiuno, nel senso che la preoccupazione del avere un posto vale più dell'ideale di coerenza, di una battaglia. Io però sono contento di aver fatto il Jobs Act, Industria 4.0, i diritti civili, il terzo settore, dopo di noi, la legge sull'autismo. Se inizio ora finisco domattina. Non ho nessun problema a dire che non mi vergogno di quella stagione riformista. Se quelli del PD si vergognano sono loro che devono come dire giustificare il loro cambio di posizione. Io dico agli elettori ex PD, ex Forza Italia almeno a questo giro alle europee votate Stati Uniti d'Europa. Abbiamo praticamente il tempo per tre domande Lampo. Secondo lei chi vincerà se ci sarà un vincitore il duello televisivo Meloni Schlein? Bruno Vespa. Beh, questo senz'altro. Quando tu riesci, quando tu riesci, premesso che forse non ci sarà, ma se ci dovesse essere Vespa si conferma il più grande di tutti. Perché? Perché li mette insieme. Cioè, scusi. Perché forse non ci sarà? Perché secondo me per le regole non funziona per come la vedo io. però le regole della Gcom, della Parcondicio secondo me non lo permettono. Secondo lei è possibile che il duello non ci sia? Secondo me sì. Dopodiché Vespa mi ha mandato un'email diarissera chiedendomi se sono disponibile a fare un confronto con Tajani e gli ho risposto di sì. Non ho alcun problema come sono disponibile a fare un confronto con Salvini come sono disponibile a fare un confronto con Conte o anche con Meloni e Schrani. Io durante il referendum feci un dibattito con Meloni da Vespa e lei è il 4% e io il 40%. Però tutto ciò premesso le dico la cosa triste è che qui c'è un mondo che va a rotoli geopolitica in crisi paesi in fiamme ci sarebbe bisogno dell'Europa che fanno le due leader dei partiti principali? Si candidano in Europa non ci vanno ma il loro obiettivo è andare da Vespa loro non puntano a contare in Europa puntano a contarsi in Italia è molto triste però chapeau a Bruno Vespa che anche stavolta l'ha messa al 7 vale a dire l'ha messa sotto l'incrocio dei pali. Abbiamo il tempo altre due domande lampo diciamo lei sta girando moltissimo per la campagna per la campagna elettorale ma dovesse diciamo raggiungere una località difficile mal collegata da Firenze o da Roma viaggio in treno in compagnia del generale Vannacci o BlaBlaCar con Carlo Calenda? Per andare in Sicilia che è il posto più lontano prendo l'aereo e a quel punto vado con chi c'è tendenzialmente da solo comunque sono curioso di parlare sempre con tutti io parlo con Vannacci con Calenda con tutti quelli che lei ritiene più opportuno diciamo una pizza non col nemico ma col non alleato più Vannacci o più Calenda per passare un'ora non paragonabili nel senso che con Carlo Calenda io a Carlo Calenda ho fatto fare il ministro l'ambasciatore il candidato leader del terzo polo il candidato sindaco di Roma del terzo polo l'abbiamo sostenuto a ballottaggio no anche al ballottaggio non ci è arrivato purtroppo alle elezioni al primo turno al Parlamento Europeo come dire Carlo ha avuto dal sottoscritto moltissimo poi come dire sul tema del motivo per cui lui ha cambiato idea è un problema suo come dire l'ho sempre sostenuto e incoraggiato Vannacci non lo conosco non ho nessun problema ad ascoltare Vannacci e le sue tesi non sono d'accordo con lui non mi scandalizzo se le dice mi scandalizzano due cose il primo un generale secondo me non deve far politica almeno finché fa il generale uno due sui disabili io sono lo zio di una bambina che ha un cromosoma in più cioè di una bambina che ha la sindrome di Down io non consento al generale Vannacci gli dire le idiozie che ha detto sui bambini disabili dopodiché Calenda in macchina fuma Vannacci in treno si sta stretti se devo andare a Enna prendo l'aereo e mi fermo a Palermo diciamo è tutto molto chiaro dovesse diciamo immaginare il tenendosi diciamo non so se più basso o più alto la performance finale alle une di Stati Uniti d'Europa diciamo si sente sicuro del 4 ma potrebbe andare oltre il 5 io vorrei la sufficienza ah perfetto questo questo mi sembra diciamo essendo un concetto scolasticamente molto chiaro abbiamo capito che è il 6 senatore Renzi buona campagna elettorale grazie a voi buona giornata grazie grazie